Parlarsi e capirsi sono la base per orientarsi in un posto diverso da quello in cui si è nati e cresciuti. Una necessità pratica nell'immediato e una via per favorire l'integrazione nel lungo periodo. Per questo motivo la Caritas di Chiavari propone da diversi anni corsi gratuiti di lingua italiana per persone straniere. È aiutare le persone a conoscersi, a stare insieme, a parlare delle proprie vite, delle proprie esperienze, perché quello che crediamo è che la convivenza tra le persone sia l'aspetto che davvero può far crescere la nostra società. Le lezioni sono iniziate martedì nel Centro Sociale San Giovanni in via delle Vecchie Mura a Chiavari. Silvestra Sbarbaro, che fa l'insegnante qui dal 2005, ci spiega cosa si fa al corso. Vediamo chi c'è, parliamo con le persone, chiediamo loro il nome, il paese da cui vengono, da quanto tempo sono in Italia, domande semplici. Cerchiamo appunto anche in base a questa semplice conversazione di capire il loro livello di conoscenza della lingua, dopodiché dividiamo i gruppi, ma per lo più ogni anno iniziamo da zero. Negli anni passati hanno partecipato soprattutto persone provenienti dall'Albania e donne dai paesi arabi, negli ultimi tempi soprattutto dal Sud America e dall'Ucraina. L'obiettivo dei corsi è proprio quello di creare un luogo e un tempo per imparare a conoscersi e rispettare le diversità, anche con iniziative diverse dal lavoro in aula. Per me appunto, come dicevo, è un'occasione di scambio. Io insegno la mia lingua a queste persone e loro mi insegnano altre cose. Mi considero una privilegiata poter fare questo servizio.